Sì, certo, la stanza è ampia, completamente insonorizzata, fermato per domani. Bene, grazie, arrivederci. Chi è da me? Proprio di questa cosa, secondo me sarebbe una cosa... Buonasera, mi chiamo Laura Sirmione, sono qui per l'annuncio. Non è il momento. Oddio, scusate, condoglianze. No, no, no. Pensavo fossero i titolari. Sapete forse dove sono Andrea Felici e Maurizio Contenti? Molina, molina, molina! Pronto? Non è un seguito più felice e contenti? Sì? Sì! Sì! Ma che cazzo ti dici? Come, scusi? Sì, va bene. Allora, grazie. Abbiamo il nostro primo, cliente! Oh, cliente! 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 Cliente!